Cos'è un remix eh? E non lo so Vabbè se non lo sento siamo a posto Sappiamo camminare sulle strade fatiscenti Sappiamo risalire pure a casa dai parenti Un po' lontano Possiamo bere molto ma siamo incontinenti Usiamo il pannolone e la colla per i denti Abbiamo mangiato pesce e poi vongole impepate Noi tutti quanti insieme ammassati nelle gite Abbiamo smesso di nuotare, poi di correre E adesso stiamo immobili Eppure abbiamo un vuoto, a far la spesa non si arriva Magari ci si desse una pensione integrativa Stasera abbiamo per cena Aglio, olio e saliva Ha una tensione evolutiva, un'altra versione questa Ci vuole il Parma, Reggio, che copre il sapore Il Parma, Reggio, che copre il sapore Che copre il sapore Che copre il sapore Che copre il sapore Con queste pensioni minime Eh purtroppo Noi non possiamo resistere Non ci possiamo permettere Neanche di bere o pisciare e cagare Mangiare e pasta Chi Pippo Chi Pippo Chi Pippo Chi Pippo Chi Pippo Eh non lo dice bene Un messaggio su Sanremo Un messaggio su Sanremo Ciao belli, che cosa ne pensa? Pippo Baudo del Festival di Sanremo Chiede Marco